Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti voi, ai miei colleghi, agli sportivi, a coloro che avranno il modo e mi auguro il piacere di ascoltare questo mio piccolo intervento che ci chiama ad essere pronti a svolgere il nostro compito e mi riferisco naturalmente e principalmente i miei colleghi allenatori che è quello di guidare, guidare delle situazioni, guidare il superamento di difficoltà, alcune delle quali possono essere prevedibili e noi allenatori siamo molto bravi a fare quello, siamo sempre molto attenti a cercare di anticipare qualunque cosa possa succedere, a fare in modo che il nostro aspetto tattico per esempio sia capace a rispondere a una situazione che potrebbe presentarsi sul campo di gioco oppure che attraverso la qualità della tecnica che alleniamo noi possiamo imparare ad uscire da delle situazioni di difficoltà. Non c'è dubbio e non devo essere io a spiegarvi, a raccontarvi naturalmente che le componenti che contribuiscono tutte e quattro al processo di allenamento sono quella fisica, certamente oggi in questo contesto quella più complicata da allenare ma con grande piacere vedo, leggo, ascolto anche cose molto belle di una rinnovata capacità di inventarsi, capaci di allenarsi e di allenare proprio dal punto di vista fisico facendolo magari anche restando in casa, anzi dovendo restare in casa come è opportuno che facciamo e come ci è stato detto di fare. Il secondo aspetto naturalmente è quello della componente tecnica e lì si passa attraverso certamente un'esperienza sul campo e una qualità di allenamento che ti permette di perfezionare la tecnica qualunque sia il tuo sport però voglio ricordare che si impara anche la tecnica attraverso due metodi, uno è quello dell'esercizio sul campo naturalmente che conosciamo molto bene ma l'altro è quello dell'imitazione quindi mi viene da pensare che in questo momento possa essere molto opportuno e anche molto molto bello poter andare alla ricerca di esempi di qualità tecnica che noi possiamo sottoporre nella forma mediata naturalmente del video allenamento, della video analisi ai nostri atleti. È proprio un momento che ci costringe a osservare meglio e che ci dà anche più tempo per osservare meglio un aspetto che normalmente noi deleghiamo all'esercitazione che noi che proponiamo naturalmente in palestra. Quindi sul secondo aspetto che è quello della componente tecnica uno strumento in realtà ce l'abbiamo ed è quello della ricerca sulla infinita opportunità che la rete ci offre ma anche lo scambio fra noi allenatori e mi viene da dire neanche soltanto fra quelli dello stessa disciplina ma proprio uno scambio che possa essere allargato per usare questo momento ibox per poter lavorare sulla capacità di allenare l'aspetto tecnico legato alla osservazione e alla capacità di imitare il gesto tecnico fatto bene quindi naturalmente accedendo a degli archivi che tutti noi abbiamo a disposizione dove ci sono dei grandi campioni che mostrano come si fa bene un gesto tecnico. Il terzo elemento che ovviamente fa parte del processo di allenamento è quello tattico direi in tutti gli sport in qualche disciplina naturalmente di più in altri un po' di meno però anche questo aspetto tattico naturalmente si presta a delle esercitazioni che in questo momento non possiamo mettere in atto ma si presta a una fase di studio di ricerca di analisi alla quale invito sia gli allenatori sia i tecnici che gli atleti questo è un ottimo momento per poterci fermare a osservare per esempio come si comportano da un punto di vista tattico le grandi potenze del nostro sport della nostra disciplina cosa succede in alcuni e come affrontano le situazioni di gioco il contesto della gara dei grandi atleti dei grandi campioni delle grandi squadre usiamolo come un momento necessario e opportuno per poterci aggiornare la rete anche da questo punto di vista ci permette di poter fare bene questo pezzo di mestiere che ci compete anche perché non dobbiamo mai dimenticare che noi siamo sempre chiamati a rispondere a una famosa domanda chi motiva il motivatore noi allenatori che abbiamo naturalmente la necessità di andare dai nostri atleti alle nostre squadre a motivarli nel senso più bello del termine nel senso a tirar fuori quella capacità di ispirazione che fa parte del nostro mestiere che è uno degli strumenti del nostro mestiere e quella cosa lì si allena e quindi questo aspetto quindi ricapitolando da quando ho iniziato l'aspetto della qualità fisica in questo ho visto che ci si sta organizzando in maniera molto creativa l'aspetto della qualità tecnica benissimo accediamo apriamo condividiamo tutti gli archivi digitali che abbiamo a disposizione per poter analizzare i gesti tecnici fatti bene il terzo aspetto quello della tattica mi rivolgo principalmente a noi allenatori questo è un momento in cui possiamo aggiornarci in cui possiamo trovare quel tempo che normalmente è sempre un po' più complicato da trovare perché siamo ingabbiati nella necessità di andare in palestra e di organizzare il nostro aspetto di allenamento bene dedichiamo questo tempo alla nostra formazione e alla possibilità di migliorare noi stessi quindi di conseguenza naturalmente miglioreremo anche la nostra capacità di trasmettere ai nostri atleti quindi un maggiore e più ampio numero di soluzioni a problematiche tattiche che il nostro sport la nostra disciplina ci propone l'ultimo aspetto è quello in assoluto oggi più allenabile ed è naturalmente quello mentale lo ripeto la prestazione si compone di quattro fattori quello fisico quello tecnico quello tattico quello mentale bene non devo raccontarvi la situazione che stiamo vivendo la sapete perfettamente mi sembra una gigantesca probabilmente unica nella storia nella mia vita non mi è mai successa una cosa del genere ma credo nella vita di nessuno di noi di poter lavorare su questo aspetto che è il 25% forse di più insomma lì si potrebbe aprire una discussione su quanto conti l'aspetto mentale nella prestazione però è certamente una componente che ha un'importanza decisiva come si può allenare questo aspetto? naturalmente ancora una volta facendo riferimento a tutte le cose che dicevo prima andando a cercare motivi di ispirazione, storie, racconti, narrazioni di imprese sportive o semplicemente testi, accedere alle biblioteche digitali che vedo stanno aprendo e offrendo delle cose molto belle in maniera gratuita ma soprattutto imparando una necessità che lo sport ci insegna ci ha sempre insegnato semplicemente in questo momento ce ne stiamo accorgendo ancora con più forza io la chiamo antifragilità, non io, insomma il concetto, il costrutto si chiama antifragilità nasce da una riflessione di un grande, tecnicamente la sua formazione di economista però diciamo è un filosofo, un saggio, insomma un autore di testi molto belli, molto importanti applicabili in tanti contesti, non soltanto quello sportivo o quello economico e così via che cos'è questa antifragilità? è la capacità di andare oltre la resilienza oggi si parla tantissimo di questo tema, ci serve resilienza per uscire da questo contesto certamente la resilienza è una componente decisiva che nei nostri sport affrontiamo quotidianamente ha a che fare con la volontà banalmente di tenere duro, di allenarsi con un obiettivo con costanza e con la capacità di raggiungere quell'obiettivo come dire, fissandoci anche un tempo nel quale lo vorremmo raggiungere l'antifragilità è qualcosa che va oltre la resilienza, è una specie di superamento della resilienza qual è la differenza? che chi è resiliente diciamo incontra degli ostacoli nel suo cammino nello spazio che lui deve percorrere, da dov'è rispetto all'obiettivo che vuole raggiungere e in maniera caparbia, testarda, con grande sforzo personale, fisico, intellettuale supera questi ostacoli rimanendo uguale a prima, uguale a se stesso antifragile è colui, è l'allenatore o è l'atleta che invece gli stessi ostacoli incontrati durante quel cammino una volta superati lo cambieranno credo che queste settimane, questi mesi che abbiamo di fronte che stiamo vivendo ci cambieranno in maniera definitiva non è una brutta notizia questa, ogni cambiamento ovviamente porta sempre delle grandi opportunità ma certamente quando usciremo da questa emergenza non saremo più, probabilmente mai più, uguali a prima la grande opportunità che abbiamo in questa occasione e che ha molto a che fare con la vicenda dello sport è proprio legata a questa capacità di essere diversi quando usciremo dalla fine di questa emergenza io ve lo posso raccontare attraverso la più grande delle mie esperienze sportive che naturalmente è stata quella olimpica credo che non ci sia nulla come i giochi olimpici che dimostrano che la necessità che noi allenatori abbiamo normalmente di tentare di arrivare pronti, preparati a qualunque aspetto, a qualunque dettaglio si scontri contro la realtà delle cose quando arriviamo ai giochi olimpici molto spesso, quasi sempre, almeno nella mia esperienza scopriamo che quello che troviamo lì è completamente diverso da quello che ci aspettavamo lo racconto spesso facendo riferimento al momento più importante della mia carriera la partita che ci permise con la nostra nazionale italiana di pallavolo maschile di tornare su un podio molto importante, su un podio olimpico vincendo la medaglia di bronzo ai giochi di Londra nel 2012 bene, chi c'era naturalmente lo sa chi ha vissuto l'atmosfera del villaggio olimpico lo immagina facilmente però quella gara che per noi arrivava dopo la sconfitta in semifinale col Brasile in una maniera anche abbastanza dolorosa arrivava in una condizione molto molto particolare con inizio della gara previsto dal programma olimpico alle 9.30 del mattino quello era l'ultimo giorno dell'olimpiade e quindi c'era tutta una necessità di rispettare degli orari molto molto rigorose beh, guardate, quello che vi racconto è molto banale ma è molto lineare nella pallavolo internazionale, quella diciamo nelle manifestazioni organizzate dall'EFIWB la federazione mondiale di pallavolo giocare a quell'orario lì fondamentalmente è proibito nel senso che la pallavolo come sapete è uno sport di forza esplosiva e quindi tutte le grandi manifestazioni europei, mondiali, World League normalmente si giocano in condizioni che chi organizza ritiene più opportune per poter esprimere anche uno spettacolo all'altezza della prestazione quella gara quindi che era la più importante della mia carriera e della carriera di tanti miei atleti che erano lì con me l'andavamo a giocare in un orario in cui nessuno di noi aveva mai giocato una partita ufficiale di pallavolo ma aggiungo altro chi c'era si ricorda le distanze che separavano il villaggio olimpico dal palazzetto dello sport dove si giocava la pallavolo che era l'Hell's Court in pieno centro di Londra adesso è stato abbattuto quindi già normalmente le distanze erano abbastanza lunghe insomma il viaggio in pullman durava quasi un'ora ma quel giorno lì l'ultimo dei giochi olimpici in un'altra condizione di novità perché come sapete nei giochi olimpici di solito la maratona termina nello stadio olimpico ma in quel caso a Londra la maratona finiva nel centro di Londra vicino a dove noi avevamo il palazzetto quindi tutto era naturalmente bloccato al traffico con delle finestre di transito molto brevi per poter arrivare ve la faccio breve gli organizzatori ci chiesero di partire dal villaggio olimpico alle 6.30 del mattino bene noi ci svegliamo ovviamente con un'ora di anticipo facciamo una specie di colazione molto molto frugale una specie di risveglio muscolare e guardate quando io salì sul pullman sullo shuttle che dal villaggio olimpico ci avrebbe portato a giocare al palazzetto realizzai una cosa in maniera molto evidente ero lì col mio sacchettino di carta con dentro il toast la bottiglietta d'acqua e il frutto no? perché ovviamente per fare colazione ci avevano dato quello e pensavo che mentre andavo su quel pullman quell'esperienza che mi stava portando a giocare la partita più importante della mia carriera non aveva nulla a che fare con quello che io avevo fatto negli ultimi 15 forse 20 anni di carriera allenando in Serie A allenando squadre nazionali agli europei e mondiali alla World League aveva molto più a che fare quello che stavo facendo con quello che io avevo fatto 30 anni prima quando in un oratorio della città dove sono in questo momento che è la mia città che è Torino avevo incominciato e dovevo risolvere il problema di portare i ragazzini in trasferta sapete come si fa no? scegliendo l'autogrill giusto per arrivare non troppo presto non troppo tardi mangiare in un certo orario per poter essere come dire pronti sul campo di gioco quando serviva mi servivano in quel momento molto più quelle abilità lì di quelle che io avevo sviluppato in 20 anni di carriera di pallavolo diciamo di valore assoluto arrivamo all'Earth Court con un anticipo enorme alle 7.30 eravamo già tutti dentro lo spogliatoio ora immaginate di dover stare dalle 7.30 alle 9.30 dentro uno spogliatoio dove fondamentalmente non c'è niente nel senso era un box molto freddo molto semplicemente necessario alla vestizione e svestizione degli atleti nulla di più e far passare due ore di tempo in attesa di andare in campo a giocare la partita che aspetti da tutta la vita evidentemente una dispersione di energie nervose mostruosa bene io intercettai quella situazione e feci un discorso che peraltro non avevo preparato ma mi sono diciamo sintonizzato al qui e all'ora e ricordo che feci un discorso del genere dissi immaginate di essere degli atleti di salto in alto un atleta un saltatore in alto che come voi ha sognato di arrivare a disputare la finale olimpica e ce l'ha fatta negli ultimi 4 anni si è preparato in maniera così attenta a ogni dettaglio da aver studiato grazie al suo staff addirittura le condizioni climatiche quindi ha andato a scoprire che a Londra ogni 12 di agosto era il 12 di agosto quel giorno lì ogni 12 agosto degli ultimi 100 anni diciamo ci sono stati 24 gradi e una brezza a favore di rincorsa di X nodi e ha ricostruito in maniera perfetta tutte quelle condizioni si è preparato ogni giorno in maniera straordinaria è perfettamente pronto non vede l'ora di entrare nello stadio olimpico e poter performare si sente pronto arriva il 12 agosto del 2012 entra nello stadio olimpico di Londra e quel giorno lì scopre che piove che cosa fare? la gara si disputerà quel giorno lì la medaglia verrà assegnata quel giorno lì vincerà semplicemente non colui che riuscirà a applicare meglio quello che ha fatto negli ultimi 4 anni della sua carriera per preparare quel momento ma chi si adatterà più rapidamente a delle condizioni che erano imprevedibili e mi verrebbe da dire meravigliosamente inallenabili eccola la parola chiave noi allenatori siamo sempre orientati a cercare di trovare tutto ciò che è allenabile ci sforziamo mentalmente di definire ogni situazione di andare a cercarla nel dettaglio di trovare l'esercizio giusto per allenarla ma esiste una componente e credetemi quella componente ai giochi olimpici è estremamente evidente di inallenabilità che è meravigliosa perché fa la differenza un ottimo esecutore arriva fino a un punto colui che riesce a interpretare e a essere efficace quando si trovano delle condizioni inallenabili è quello che vincerà allora dissi è chiaro che siamo qui sotto la pioggia è una evidente metafora consapevoli del fatto che attenzione non è che quello che noi abbiamo fatto per quattro anni prima non sia servito a niente quella clamorosa e come dire ossessiva attenzione ai dettagli alla preparazione di ogni piccolo aspetto a tutto quello che riguardava le distanze il menu l'aspetto tecnico gli orari gli allenamenti la puntualità la precisione non è che sia servito a niente ci è servito ad essere qui seduti in questo spogliatoio oggi perché se non avessimo fatto quella roba lì non saremmo noi qui oggi ci sarebbe qualcun altro al nostro posto ma la cosa di enorme ispirazione è che noi solo qui scopriamo essendo arrivati qui solo qui possiamo scoprire che l'ultimo miglio va fatto in condizioni che nessuno poteva preparare andammo in campo insomma con un po' di fortuna e di bravura naturalmente riuscimmo riuscimmo a vincere quella partita a portare a casa una medaglia olimpica e a portare a casa soprattutto un'ispirazione straordinaria che e vado verso la conclusione si sommava a un altro aspetto che aveva avuto a che fare con questo concetto di allenare l'inallenabile diciamo così per essere ambiziosi e questo lo realizzai qualche mese dopo perché come tutti voi sapete la vera difficoltà per come dire per formare i giochi olimpici è quella di qualificarsi per i giochi olimpici nella pallavolo maschile in particolare qualificarsi dall'Europa è una cosa veramente complicata bene noi avevamo disputato l'ultimo non l'ultimo ma il giorno di qualificazione europeo per andare a Londra nel maggio alla fine del mese di maggio naturalmente di quell'anno lì 2012 pochissimi giorni dopo la fine dei playoff io ricordo eravamo a Monza in collegiale credo avessimo cinque o sei giorni al massimo per mettere insieme la squadra naturalmente accogliere atleti che arrivavano dai finali scudetto quindi sia quelli che avevano vinto che quelli che avevano perso che per ragioni diverse avevano speso molto diciamo così in termini mentali cinque o sei giorni dove io ero ossessionato dall'idea di poter allenare tutto rimettere insieme alla squadra le scelte tattiche il muro le situazioni di rotazione per rotazione la battuta insomma tutti aspetti tecnici che nel mio archivio mentale avevo cercato di definire avendo così poco tempo a disposizione in realtà quando incominciamo ad allenarci mi accorsi mi accorsi che come dire serpeggiava all'interno della squadra un'unica idea che era legata al fatto che parliamo del 2012 quindi non c'era ancora la tecnologia che oggi si applica per gli incontri di pallavolo il tema era molto semplice noi andavamo a giocare in Bulgaria il torneo di qualificazione olimpica era in Bulgaria quella Bulgaria che avremmo battuto in finale per il bronzo a Londra e allora diciamo il sistema che l'E5VB aveva per l'arbitraggio era quello di avere naturalmente arbitri internazionali ma sempre i guardialine espressione della federazione locale quindi i guardialine che in quel caso sarebbero stati ovviamente bulgari e un po' quello che si arpeggiava nella squadra era l'idea che vabbè arriveremo lì magari arriviamo in finale con la Bulgaria ci saranno delle situazioni come dire dubbie nei finali di set troveremo sempre un guardialine che con la palla clamorosamente fuori ci segnerà dentro e così via mi sembrava ci fosse un po' una rassegnazione di quelle profezie che si autodempiono come l'idea di aspettarsi qualcosa che sarebbe inevitabilmente successo beh io con grande senso di responsabilità reciproca ho sempre affidato molto degli allenamenti della mia squadra dal punto di vista mentale al professor Giuseppe Vercelli che molti di voi conoscono è un esperto straordinario di prestazione umana insomma gli presentai questo tema e facciamo una riflessione comune venne fuori una proposta che avrei poi chiamato l'allenamento all'ingiustizia che cos'era questo allenamento all'ingiustizia organizzammo senza che nessuno sapesse niente naturalmente nei miei atleti nel mio staff una seduta di allenamento di quelle pochissime che avevo a disposizione dove io avrei fatto qualcosa di speciale quindi immaginate il 6 contro 6 ovviamente io per comodità ho sempre arbitrato il 6 contro 6 esercizio molto difficile da raggiungere la squadra il sestetto litorale ce la fa io fischio una palla clamorosamente fuori nonostante la palla fosse dentro inizio a percepire insomma un po' di tensione ripartiamo esercizio ancora più difficile finisce il sestetto ce la fa lo vince e io fischio una toccata muro assolutamente inesistente iniziando a generare le prime parole grosse ai primi calci ai palloni come immaginate terza situazione si ricomincia terza situazione l'esercizio ancora obiettivo ancora più difficile io lo interrompo quando la squadra sta per realizzarlo con un fallo di posizione che per chi non conosce la pallavolo è la cosa che fa più arrabbiare un atleta perché ovviamente non è neanche una valutazione è una percezione quindi insomma scopia un finimondo io riesco a portare a casa la pelle perché insomma avevo anche a che fare con atleti belli grossi e fermo l'allenamento e dico bene non sono impazzito quello che abbiamo allenato è una situazione di cui voi siete certi che ci troveremo a fronteggiare non c'è in dubbio che qualcuno speri che non succederà siamo sicuri che succederà tutti la prima o l'ultimo quindi non possiamo decidere di non far succedere qualcosa che siamo certi che succederà l'unica cosa che possiamo decidere e come noi reagiremo quando quella cosa succederà bene questo era il maggio del 2012 andiamo a giocare questo torneo in Bulgaria lo vinciamo senza difficoltà tra l'altro la Bulgaria esce in semifinale noi vinciamo la finale di quel torneo contro la Germania ci qualifichiamo per i giochi e poi la Bulgaria si qualificherà con un altro torneo e qualche mese dopo a Londra nella gara del quarto di finale la prima che normalmente la prima eliminazione diretta che normalmente è quella che fa la differenza fra il girone noi incontriamo dopo aver fatto un brutto girone di qualificazione essendo arrivati quarti nel giorno di qualificazione incontriamo la vincente dell'altro girone gli Stati Uniti campioni olimpici in carica che avevano fatto invece un girone eccellente battendo il Brasile battendo la Russia quarto di finale Italia Stati Uniti insomma sembriamo un po' condannati a dover tornare a casa e invece entriamo molto bene nella gara arriviamo alla finale del primo set punto a punto sul 23 pari va in battuta un americano si chiama Priddy fa una battuta vi giuro imbarazzantemente fuori clamorosamente fuori il guardialine inglese in quel caso segna la palla dentro scoppia ovviamente la fine del mondo tutti perdiamo un po' la testa per un attimo a me viene un'idea un ricordo non un'idea chiamo un time out non dico nulla di tattico di tecnico ricordo solo a tutti quanti che noi avevamo la fortuna di aver allenato quella situazione lì pensavamo che ci sarebbe servita per il torneo di qualificazione in Bulgaria invece guarda che bello ci serviva in un momento ancora più importante il quarto di finale della dei giochi olimpici che ci avrebbe permesso di andare se l'avessimo vinto a giocare per le medaglie insomma ho visto un attimo gli occhi dei miei atleti riilluminarsi siamo tornati in campo abbiamo vinto quel set abbiamo vinto 3-0 quella partita che è un ricordo straordinario e quella è stata l'apertura insomma l'accesso a giocare poi per le medaglie e medaglia di bronzo che abbiamo che abbiamo poi vinto bene questo allenamento all'ingiustizia e chiudo per me è stata una lezione gigantesca perché io ero combattutissimo dall'idea di aver perso del tempo avevo poco tempo a disposizione cinque giorni per provare a fare tutto avevo buttato via apparentemente un allenamento soltanto per generare l'idea di essere pronti a reagire a una situazione che non avremmo potuto allenare vi assicuro che quell'allenamento all'ingiustizia è stato forse l'allenamento più importante che io abbia mai messo a punto nella mia carriera siamo in una situazione davvero inallenabile siamo in un contesto complicato questo contesto non ci deve spaventare siamo uomini di sport e siamo abituati a avere a che fare con le difficoltà e con la sconfitta sappiamo che dalla sconfitta evidentemente nasce il presupposto necessario per poter migliorare noi stessi e preparare la prossima vittoria io vi saluto e vi ringrazio con questa idea che spero possa rimanere di questo mio intervento e del fatto che allenare all'ingiustizia qualche volta fuori di metafora essere pronti a gestire qualche cosa che noi sappiamo di non poter controllare può fare la differenza come un gesto tecnico o come una scelta tattica azzeccata un saluto caro un abbraccio e a presto